Evitare inutili attese e disagi ai cittadini mantenendo comunque alto il ritmo di somministrazioni giornaliere. E' questo l'obiettivo dell'azienda ospedaliera Marche Nord che decide di cambiare passo sulle modalità di accesso al punto vaccinale di Muraglia che è stato preso d'assalto negli ultimi giorni per i cittadini che volevano ottenere la terza dose anche per effetto delle nuove disposizioni ministeriali. Dal 6 dicembre al punto vaccinale di Via Lombroso si accederà infatti solo su prenotazione dopo gli recenti rallentamenti nella gestione delle somministrazioni che hanno impegnato oltremodo il personale per far fronte alle molteplici richieste. All'Hub di Muraglia dunque solo su prenotazione mentre a quello del Rossini Center così come a Fano e Orbino dopo un'alternanza fra mattina e pomeriggio ora si torna a vaccinare la popolazione 12 ore al giorno con l'obiettivo di arrivare a 2700 dosi giornaliere. Si ricorda che le terze dosi dal primo dicembre sono aperte a tutti i maggiorenni che hanno effettuato la seconda dose dalmeno cinque mesi. Dallo scorso 22 novembre si contano 145 mila marchigiani che hanno prenotato la terza inoculazione. A breve poi ci saranno anche le prime vaccinazioni per i bambini. L'AIFA ha dato infatti lo che è la somministrazione del vaccino anti-covid anche per la fascia d'età fra i 5 e gli 11 anni e il commissario straordinario Figliolo ha risposto col via libera al primo milione e mezzo di dosi pediatriche a partire dal 16 dicembre. Come verranno somministrate? Le marche hanno due settimane per organizzarsi tra vaccinazioni dal pediatra o in ospedale. Acquaroli per il momento esclude l'hub vaccinale per i bambini. Non credo che in questo momento sia ipotizzabile, credo che in questo momento è ipotizzabile e soprattutto è fondamentale la questione dei richiami. Poi vedremo quello che ci dirà il CTS, il Ministero, quelli che saranno l'orientamento anche delle aziende ospedalieri in base a quelli che sono gli input del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico. Per noi in questo momento però è fondamentale l'azione del richiamo e mettere in sicurezza tutta quella parte della popolazione che avendo fatto il vaccino tanti mesi fa rischia di aver perso l'immunizzazione. Intanto per ragginare la crescita dei contagi di questa quarta ondata non è da escludere che la Regione Marche adotti provvedimenti come il ritorno all'obbligo di mascherina all'aperto. Se ci sarà una necessità particolare cercheremo di comprenderlo e sicuramente tempestivamente come lo scorso anno cercheremo di metterlo in campo. Quindi faremo l'ordinanza per la mascherina anche all'aperto se sarà necessario e se anche i nostri uffici lo riteranno odio.